La 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 Ho fatto colazione con pane e panettone Cercando di non pensare al salto di Natale Cercando a dotare con le carte arrivo al mare Un po' pescola, un po' sponda per potermi rilassare Dal salto pasquale Ma mia donna mi diceva che giudavo in modo strano Paravo sotto sotto per pensare a qualcos'altro Si mi unò in mente quel bellissimo pensiero Il saggio di Natale Ma del saggio in generale La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.